Ciao a tutti, oggi eseguirò il Paradiddle, ovvero quel rudimento base che si studia e che studiano tutti i batteristi, composto da colpi singoli e colpi doppi, nella seguente diteggiatura. Destra-sinistra, destra-destra-sinistra, destra-sinistra-sinistra. L'unica cosa particolare è che oggi farò una piccola sfida con me stesso, ovvero lo farò seguendo un metronomo in accelerazione da 96 bpm a 200 bpm, speriamo di riuscirci, ok? Pronti? Vai! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!